Buona giornata a tutti, eccoci qua a Nota Antica. Questa è la torretta di Nota Antica, la razzazzata è un po' più giù. Stamattina sono qua a preparare un po' da mangiare per l'Ira e l'Elu, allora aspettano presentemente, tra un po' prepariamo, oggi è una esperienza di giornata, tira un po' di venti di maestrale, ma c'è una bellissima aria gradevole, si respira la pulita qua in montagna, veramente bella. Vi auguro a tutti una buona giornata, salutiamo Lila, saluta Lena. Saluta Pallina. Ciao a tutti. Ciao a tutti.